Adesso richiamo Angelo Prosperi che debutterà nel suo paese come poeta. È la prima volta che mi simbisco in pubblico. Quanti pezzi leggi Angelo? Tre. Sono una trentina che ho fatto così. Dal cassetto le tenevo strette al cassetto. Coraggio. Il spaccio, vi ricordate tanto tempo fa, gli ottenevano Aghe e Rosetta. Fino all'ultimo li ho ottenuti. Erano vecchie scorte. Poi sono venuti Angelinella e Maria Rosa, i nepoti. E' come funzionava il spaccio con Maria Rosa e Angelinella. Se non si trovava aperto alla tabaccheria, alza subito i tacchi. E scappate ne via. Se c'è stia Angelinella, che aspetti a fare? Ci mette sempre tanto tempo per cagare. Invece Maria Rosa era un'altra cosa. Se mi cercano, eccomi va. Solo un po' di cento commissioni ha da fare. Se si trovato chiuso, si è stato fortunato. Quanto tempo non si è perduto. Tanto ti andrà a tenere con lo ciaulà. E poi, per non trovare niente, a vendere il cassetto e non dare un spa. Se voli ve la tale marche sigaretta, addio. Ti è da rimbiagne ve la povere Rosetta. La femmina. Ti alletta come se fa con gli porco. Teni inutè. Scapolo non te ce può vegliere. Ti attira come un ferro alla calamita. Ti fa finire sa bella vita. Ta notta, come a serpe fa con gli uccellitti, non ve l'ora di fatte filaritto. Pure se sta lontana, non riuscita la tana. La femmina è una voleva e una granfia di cianvana. I funerali. Inizia i funerali con Ananzi Stannardino. I Stannardino, pochi se li ricordano, era con gli Stannardino della Buona Morte, usato per i funerali. Su un drapponino era raffigurato uno scheletro tutto bianco, con una fascia, una fascia e Ananzi, con la fascia. Allora, a Ananzi Stannardino a pegli i cuscini venardino, a Socere Capanna e le sorelle Sant'Anna. Puntuale come una lancetta e a ne lui getta. Mesta e a capoccia bassa porti copri cassa. E poi a Croce Cartone, perché quella buona se l'hanno fregata, eh? E poi a Croce Cartone è il prete che dice l'orazione. Bichimeo e Peppe Facotto portano a casa di un morto. E reto i parenti, gli amici conoscenti. Che li conosce, era senza pari, denne con toglianze agli familiari. Ari, con la parola di conforto, baciano i parenti di un morto. E' inutile sbatte sa testa, i morti ha morto, tocca a pensare a chi resta. A Campusanto il morto benedetto viene messo agli forniti. Poi saluto e pianto. Quando che la gente è un po' sfollata, travi i cassa mortare che Coanna si è appartato. Una sverciata e la mangia assicurata. E mentre veste i sordi a bota, gli saluta. Ci rivemo agli prossimi una robota. Bravo, Giulio. Grazie. 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 Grazie.